Beccato col dito medio all'insù, Massimo Busacca, fischietto della finale dei Mondiali di Germania 2006 e della recente finale di Champions League tra Barcellona e Manchester United, è incappato in un brutto scivolone che potrebbe costare carissimo alla sua fin qui scintillante carriera sui campi di calcio. L'arbitro internazionale, considerato tra i numero uno della categoria, è stato pizzicato mentre, irritato per i corri di insulti che gli piovevano addosso, ha fatto il dito ai tifosi dello Young Boys durante la partita di Coppa Svizzera tra il Baden e Young Boys, un gestaccio di cui davanti alle telecamere della televisione svizzera ora l'arbitro ticinese chiede scusa. I sentimenti lavorano in un altro modo, reagiscono in un altro modo e purtroppo mi è venuto questo gesto che chiaramente non lo si può assolutamente giustificare. Non è però la prima volta che Busacca perde le staffe. Durante Messico-Argentina, Mondiali 2006, insultò pesantemente in lingua italiana un giocatore. Pezzo di M si legge dal labiale. Insomma, Busacca, dei precedenti, è rischio a grosso. Potrebbe addirittura saltare i Mondiali in Sudafrica.